Salve a tutti ragazzi, sono Lord Kane e vi do benvenuto a questo nuovo filmato. Vediamo la seconda parte della nostra serie contro Fish, il poker in quarantena. Ragazzi, ma quanti li stiamo vedendo in questi giorni? Allora, eravamo arrivati alla mano 5, quindi vi ho tediato 40 minuti. Ora cercherò di fare la stessa cosa, ma nel doppio di mani, quindi abbiate pazienza e calma e gesso. Allora, prima cosa, definizione di questo tavoletto. Di solito sono tutti così, insomma, se non sono tutti così non state facendo la buona table selection, ma va bene, nel periodo di quarantena, mi raccomando, selectate un po' i tavoli. Musettina, giocatore 50-35, profilo abbastanza aggro, apre grosso modo un 50 da tutte le posizioni. Bassi fold, super aggressivo, alta bet, alta bet versus mister, alta donk, tutto molto alto. L'altro giocatore, Giove, un 40-0-0, arrotondiamo, 0-3-0-2, non rilancia mai, non fold up, molto, molto station, è proprio un giocatore molto passivo e molto station, quindi delineati i due tipi di giocatori. Allora, apro Musettina. Dovesse chiamare Giove, la mano fa soldi, sia tribettata che chiamata. Ora, precisamente dire quanto di EV, cosa sia meglio di l'una o dell'altra, è un po' complicato, perché 7-7 è proprio il bottom del value, se ci pensiamo. Cioè, 8-8 siamo piuttosto sicuri di tribettare, 7-7 sì, spesso, 6-6 inizia a essere il bottom fuori del range, cioè il top del range che non sto tribettando. E sicuramente, dovesse chiamare anche Fish, farebbe un sacco di soldi, anche perché siamo nella posizione migliore, no? Giove cercherà molto spesso, noi cercheremo, se dovessi imitare, e l'Origine Razer ci betterà molto spesso. Giove chiamerà molto spesso, ne potremmo cercarciare per i massimi, quindi è una buona posizione relativa. Comunque succede che Giove folda, per cui chi se ne frega. Possiamo sia tribettare in valore, fa sicuramente soldi, sia chiamare, visto anche il tipo di giocatore. Attenzione alla lettura, però. Alta c-bet flop, bassa turn, nei cibettati, su poca mani, alta river bet. Quindi attenzione a come impostiamo, perché molto spesso una linea anti-exploitativa, o meglio, exploitativa su di lui, sarebbe quella di difendere la prima, cercare la seconda, difendere la terza. Molto spesso, non vuol dire su tutti i board. Certo è che, se vogliamo arrivare a fare questo tipo di giocata, dobbiamo anche selectare un range che ci permetta di farlo. Per cui una mano come, per dire, non lo so, K2. È vero, migliora la sua top pair, tipo l'11% delle volte e il 90% ci tocca andarcene, no? Contro un giocatore che betta spesso. Se il 90% delle volte facciamo meno questi soldi, vuol dire che la volta che andiamo a migliorare, dobbiamo farne di più di quelli che abbiamo perso in totale. Discorsi astratti. Comunque qui abbiamo optato per una tri-bet, va bene. Nel senso, fa sicuramente soldi contro il nostro avversario. Attenzione però a cosa stiamo creando a passflop e a che tipo di range stiamo tribettando. Se ci stiamo a pensare tanto con 7,7, vuol dire che con 9,9 non abbiamo bisogno di pensarci. E perché stiamo tribettando con 4,4, abbiamo probabilmente decisamente l'idea di chiamare pre. Ok? L'idea di qualche mano che faccia un po' raspartiacque. Comunque che hai tribettato, chiama il nostro oppo, ma va là, non folda mai, fin qua nessun dubbio. Allora, su questo board pensiamo un attimo al nostro range. Qui cosa staremo cercando, no? Visto il tipo di giocatore. Visto che abbiamo tribettato una mano come Q10 col 10 di quadri, in realtà non l'avremmo tribettata, no? Non sarebbe un'ottima mano da difendere. Gioca molto bene. È un tipo di mano che hita un sacco di top pair, mid pair, comunque con un buon kicker. Che sono buone mani per lasciare che il nostro oppo ci bleffi in faccia. Quindi non abbiamo mani di quel tipo. Ma se pensiamo al nostro range di tribet qui, jack jack col jack di quadri, forse addirittura troppo forte da cercare, visto il tipo di avversario. Ma 9-9 con 9 di quadri, 8-8 con l'8 di quadri. Perché esisto sulla side card a quadri? Perché se avessi 9-9 di picchi e cuori starei ci mettando contro questo giocatore perché devo proteggere l'equity della mia mano, prendere il valore del range avversario, può comunque fare pot building con le mani un po' più forti. E attenzione che la dinamica di questo board è abbastanza ampia, cioè molti turn sposteranno la nostra equity. Ma se io inizio a cercare dei 9-9 con cuori e picche, per intenderci, molto spesso mi troverò a dover abbandonare la mano. Chi è come vuoi mettersi in trappola da soli contro questo tipo di giocatore. Quindi qua una buona linea può essere quella di cercare per chiamare le bet del nostro avversario. E mi raccomando, la presa della nota. Qua cerchiamo Oppo Checkback. Quando Oppo Checkback è un profilo abbastanza aggro, questo non è super aggro come un sacco di spigui, è un aggro comunque medio. Quando Checkback tende ad avere un range un po' più medio, non dico forte, ma medio che possa bluff cacciare. Tenderà a bettare le mani un po' più forti, qualcuna a cercarla dietro e a bettare tanta tanta aria questo giocatore. Quindi cerchiamo di tenere d'occhio questa lettura. Quando Turn casca il 3 di quadri, chiaramente abbiamo ora il nostro colore al 7, che è non avanti a range di call dell'avversario. Non ha bisogno di protezione, perché vabbè, a parte che se esce il 4 di quadri facciamo scala a colore, ma chi se ne frega. Ma non c'è una carta Turn che ci schifa, cioè anche se dovesse uscire l'asso di quadri. Comunque logichiamo il nostro 7, ok? Abbiamo comunque il nostro 7 che ci fa tenere il punto sul board. Oppo, betta, piccolo, difendiamo, river, kappa, oppo, betta, mezzo, mezzo pot e difendiamo. Nota sul nostro avversario, ha ceccato era il flop, quindi non trasforma tutta la sua area in bluff. Infatti non ha una bett vs. smister così alta. Mi raccomando, cerchiamo di capirlo. Lo dico apposta su analisi lunga, su mani abbastanza semplici, perché noi dobbiamo allargare il punto di vista. Partiamo dallo specifico, mano specifica contro un giocatore specifico e prendiamo concetti generali che ci possono poi essere utili per ottimizzare l'intero range. Quindi Oppo, give up a air, cioè flop non trasforma in bluff la sua air, coerente con la bett vs. smister. Turn, betta piccolo in finvalue, si sa preso il 3 dal suo punto di vista, betta piccolo perché la mano è debole. River cerca un goffo bluff, ma goffo insomma anche abbastanza senso da un punto di vista più esterno. Comunque la cosa che mi interessa di annotare su questo giocatore è che ha mini race trips, mezzo pot river value, un'altra nota presa in un'altra circostanza. Comunque non bleffa air al flop, un quarto turn bottom pair, mezzo pot river e possiamo qualificare questa size come bleff. In questo caso, mi raccomando, associamo la giocata al resto delle move, per esempio in questa mano, su un ball pairato, Oppo, mini race e trips, no, mini race al turn, il trips è diverso e fa mezzo pot deliver in valore. Cerchiamo di capire se il suo range di mezzo pot comprende se ha valore che il bleff comprende tutto, oppure se la size piccola ha un valore più piccolo o la size grande ha più bleff. Perché possiamo ottimizzare la resa del nostro intero range, e della mano specifica in quel caso, così da aumentare al massimo le VBB. Ricordiamoci qui perché della scelta, ragionamento sul preflop, range di tribet generale e mano specifica dove si piazza, impostazione di gioco postflop su questo board con l'intero range, pensando a cosa vogliamo cercare per bleff cacciare, cosa vogliamo volubettare e cosa possiamo voler avere anche in bleff in bet contro questo giocatore, non moltissimo visto il profilo, basso fold, linee di aggressor in aumento. E' importante ricostruire. Le note sono super importanti perché sul fish le prendiamo subito, istantanei, al tavolo appena vediamo qualcosa, nota su quella dongbet, su quella bet versus missile, su quella riverbet, su cosa ha quando betta, quelle size, perché fish non vive così a lungo. Se è reg possiamo annotare piccoli, magari sul nostro foglietto di carta, quaderno di coaching, quello che stiamo tenendo, diario, quello che ha, e prendere note più estese a fine sessione per giocatori che ritroveremo. Il fish è una giovane farfalla che, come è successo per il coronavirus, qualcuno mangia un pepistrello in Cina e noi ci chiudiamo in casa. Non è vero, in realtà era una battuta orribile, ma è una perfetta definizione dell'effetto farfalla, a quanto pare. Allora, comprendiamo un attimo questo tavolo. Tre bei fishettoni, belli grassi, abbiamo. Euphorb è un 40-0-0, ok. Alto fold è flop, basso quanti usci da una poche mani per caratterizzare il giocatore. È un lose passive in tor fold. Quello che ci interessa vuol dire che aumenterà l'equity del nostro iso, aumenterà il nostro valore, cioè il valore, l'atteso della nostra air che può abbettare più spesso e più piccolo. Cerchiamo di capire che il nostro valore possiamo ceccarlo un po' di più, se non richiede protezione, e prendere valore con calma nelle strade successive. Avremo quindi un'impostazione sbilanciata in blef al flop, un po' di valore ceccato. Quando difende la prima, sbilanciamo molto il valore turn e river. Il secondo giocatore è Rewind, 89, è un 50-20-10, apre più o meno il 20 da tutte le posizioni. Una linea in aggressione relativamente alta, ma su poche mani, comunque un profilo station post flop. Basta aggression factor flop, bassa turn, bassi fold, alto quanti usci da un suo poche mani, profilo station. Il giocatore invece Val, di cui non ignoro il nome, che è Vallebona, è un giocatore 80-20-20, apre abbastanza, beta spesso, piuttosto aggro, altra donk, alta beta, alta aggression, alto un po' tutto. Quindi profilo Spewey, profilo station passiva, profilo station interfold. Mi raccomando, definiamo i profili. Buone abitudini, prendere anche i label colorati, quindi per esempio solo Spewey, non metterò il mio, comunque di solito usa viola, sui giocatori Spewey, ma specialmente sul preflop. Perché a me interessa avere un effetto pratico, se sto giocando tanto i tavoli, devo sapere più o meno che range di valore voglio associare. Un giocatore di profilo passivo, possiamo generalmente metterlo al verde, che significa che è un giocatore che non bleffa e dobbiamo bleffare poco a nostra volta e sbilanciare il valore. Sui giocatori di profilo alterfold, di solito tendo a mettere un blu, qui non si vede niente perché non so che colore ha cliccato, sono diventato del tonico ragazzi, mi sembra viola. Comunque un colore che sia simile al verde e un po' più chiaro per farmi capire che è un giocatore che, sì, è un fish dal punto di vista del skill e del tipo di gioco, ma è un giocatore che posso bleffare spesso. Ditto questo che succede, l'imperino di un giocatore che limpa tutto, ISO allungato, in questo caso siamo usciti 5x, con bassissima tribet alla nostra sinistra, quindi non ci viene mai negata la nostra equity e alziamo la size proprio per questo motivo, alziamo size super felici. Limp call di questa hop, molto bene, super gioia. Ricordiamoci che il nostro range di ISO qua non è molto frequente, possiamo sicuramente avere un range di overlimp in questo caso, visto che BB non squizza mai ed ha abbastanza soldi dietro, non è un giocatore super corto. In più, anche Mani con un vago valore di top pair, prendiamo un bottom che mi viene in mente Q9 off, che magari potremmo anche volere isolare, ma non è il massimo, perché poi ci troviamo a OP contro due giocatori. Potrebbe, in questo caso, far soldi overlimpata. Non è normale che noi limpiamo Mani con valore di top pair multiway, ma siamo comunque fuori posizione, ma contro il giocatore over aggro e non siamo a rischio di dominazione, visto che gioca a tutte le sue mani. Se avessi rilanciato, invece, sarebbe stato un problema giocare Q9 off. È chiaro, è chiaro. Poi, ittiamo i massimi perché siamo i migliori, no? Cioè, abbiamo la run benedetta e divina. Comunque, cerchiamo di pensare al nostro range. Qui, contro questo giocatore di profilo un po' aggro, è corto. Se avessi avuto fino a 5 euro, per capirci, no? Il pot è il 275, fino al doppio del pot, grosso modo. Ecco, in quel caso, la mossa, cioè, l'opzione di metterlo all in, quindi una vaga overbet, fino a due volte il pot, non andiamo a fare l'overbet 10x, ecco, può essere sicuramente un'opzione. Visto comunque lo stack che ha il nostro oppo, non rischiamo molto in valore, anche mettendo piccolo, cioè non stiamo concedendo molti equiti. Se il nostro oppo fosse deep stack, sicuramente non potremmo mettare così piccolo. Comunque, pensando al nostro range, abbiamo la nostra parte più alta di valore, insomma, una doppia copia su questo board, è mostruosamente forte. Stiamo quindi su questo board, ci mettando un po' meno spesso del normale, alzando un po' la size. Mi va bene cercare, certamente, alcune mani nel range di ISO. Se penso al mio range, mi viene in mente un Asso 9 col 9 di fiori, un Asso 10 col 10 di fiori, anche se è talmente forte che potremmo anche vederla mettare. Non abbiamo molte combo altre di Asso off, anche se vedete anche Asso 8, un'altra combo che isolerei in questo spot, ma l'importante è la side card. Se noi qui avessimo anche una mano come Qjack col Q di fiori, Kjack col Jack col K di fiori, sono combo che ha senso avere in check, per poi magari volumitare Turner River, o comunque lasciare che Loppo scarichi la sua rabbia funesta e pelida kill contro la nostra simpatica faccia. In questo caso facciamo una bet un po' più grande, cioè usciamo attorno ai due terzi, Oppo mini raise a C-bet, nessun dubbio sul fatto che giocheremo i 3€ rimasti su questo pot, comunque ci giochiamo i resti sereni. L'importante è che se noi qua mettiamo mani di cui poi non siamo felici di ricevere questo genere di azione, probabilmente non andavano bettate, perché se ci troviamo a betfoldare mani che hanno equity contro questo player, abbiamo fatto sì che lui potesse sfruttare i suoi leak e difetti per esploritarci. Cioè ci siamo auto-exploitati. Prenderemo nota alla fine della mano, Oppo gira K10 Suite dal suo punto di vista, chiaramente è una scala reale, c'è in casa di scala reale, fortissima, prendiamo nota, ma la nostra nota sarà MR, MRCB se vogliamo, mini raise a C-bet, strong, perché comunque dal suo, è vero c'è la mano è abbastanza forte, ma dal suo punto di vista riserà le mani un po' più forti. Mi aspetto quindi che non mi raise i blef, magari me li chiami per blefarmeli dopo, oppure mi faccia comunque delle size diverse. Mini raise C-bet, strong, e le argomentazioni sul tipo di range che isoliamo, sul tipo di range che cecchiamo, sul tipo di range che bettiamo, e l'idea sulla costruzione del pot a seconda di quanto ha il nostro avversario di stack effettivo rispetto al piatto creato, se siamo troppo nei geni del male. Allora qui, attenzione, cerchiamo di capire il tavolo ancora prima di avere le stats. Pirlo credo sia un giocatore calcistico, no? Lo so, ok, che non seguo molto il calcio, ma fino ai ragazzi che giocavano nella nazionale ci arrivo pure io. Comunque il giocatore calcistico sarà Fish, e infatti è un 100-100-100. Comply è un 70-20, i stats sono molto poche. Comunque un 70-20, molto aggro, 60 di Donk, Aggressor, Aggressor, Riverbet, molto alto. Curiosamente alta la folder floppy C-bet, ma ricordiamoci che 67 vuol dire due volte su tre. Non è indicativo su 30 mani. Comunque un profilo Speewee, ok? Se mai potessi confermasse sarà un profilo Speewee con una vaga tendenza di Torfold, ma dobbiamo pensare che lui Donk anche molto. Quindi sul range di check sarà probabilmente molto debole. Buona sapersi. Pinto, giocatore di regni, profilo nitti, che sicuramente sta stampando i milioni a 25. E Pirlo profilo Speewee esageratamente Speewee. Questi sono gli Speewee più grandi. Quindi quelli che giocano l'intero range, aprono metà, tribettono praticamente tutto, over agri, alta, bat flop, turn, river bet altissimo, interi range che vengono scaricati su questi qua. Apriamo qua, aperto solo per due. In realtà, non lo so, forse perché non c'era lo small blind, lo ignoro, ma comunque va bene. L'idea, mi raccomando, abbassiamo size quando abbiamo giocatori come Pirlo da big blind. Come mai? Perché dobbiamo abbassare size, che siamo in full super valore? Perché il nostro hop tribetterà tantissimo. Quindi se noi apriamo per 3 e veniamo tribettati troppo spesso, come capita da giocatori di questo tipo, andiamo poi a crearsi una situazione subottimale. Possiamo quindi creare due tipi di range, cioè un range che apre per 2 per difendere la tribet, un range che apre per 3 o per 4, da notare che Pirlo gioca il 100% delle mani, vi assicuro che mettere un euro, parlo di soldi apposta e non di BB, un euro o 50 cent, dal suo punto di vista non cambia niente, perché per il nostro avversario sono spiccioli, e se sono spiccioli vanno spiguati. Quindi apriamo per 2 per poter difendere più spesso la tribetta. Se vogliamo aprire un range di valore per 3 o per 4 con cui vogliamo giocarci i resti, va bene, non è un range bilanciato, ma contro fish non c'è problema, perché non se ne accorge, ve lo assicuro. Va bene, apriamo e veniamo chiamati. Allora, il nostro hop don capote su questo board. Ora, la mano è abbastanza buona da risare, ma non è necessario. Abbiamo molti turn che ci vanno bene, Oppo, visto che ha 20 litri bet, non ha tipo mai l'asso, non è che sa turn che asca l'asso, all'improvviso prendiamo paura. No, c'è l'asso, no, non ce l'ha, quasi sempre l'ha trimettato, praticamente tutti gli assi di tribetta. Poi magari un paio di assi 2 gli sta chiamando pre, ma a noi non interessa. Lui ha impostato una linea di barre, il povere, un sacco di cose, veramente sempre. Vogliamo risare flop? Fa soldi. Vogliamo chiamare per risare tard? Fa soldi. Vogliamo chiamarne 3, visto il giocatore, fa soldi pure quello. E l'importante è avere un'idea del perché. Risare qua mi può andare, però attenzione, perché Oppo può avere dei K9 in mano, è vero, perché non necessariamente li tribetta. Dubito abbia asso 9, quindi non è un gran problema. Dubito mai abbia overpear tipo 10, 10+, immagino non abbia neanche dei set 4, 4, 6, 6, 9, 9, perché generalmente li avrebbe tribettati. Può avere qualche draw, 5, 7, 8, 7, quindi in realtà risare non è così malvaso contro contro questa range. Può sicuramente avere delle doppie perché gioca a TC, ma ricordiamoci che lui donca ha tantissimo, quindi siamo un chilometro avanti. Col tan 2 di picche, lui beta ancora, ma cambia size. Il cambio size vuol dire probabilmente miglioramento di equity. Ora, è vero, abbiamo ancora motivo per risare, potremmo anche risare e commentarci, saremo molto spesso buoni, vi dirò, ma sulla size ridotta mi aspetto anche qualche combo di 6, 2 che ha migliorato equity, 4, 2 che ha migliorato equity, 6x o 4x di picche che hanno migliorato equity. Se non ricordo male qua decidiamo di chiamare, sì, si poteva voler risare, non nego che possa far soldi. Comunque siamo IP, non foldiamo su nessun river. Vi dico che il cambio size mi un po' mi preoccupa, per cui se veramente cascasse picche sarei un po' in dubbio, ok? E un'altra carta che mi fa paura contro questo giocatore è il 6 e il 4, visto che tende ad avere tante anche bottom pair. Comunque qualche river non è ottimale, river casca 2, 2 non è il migliore, ma oppo pota. Quando un giocatore di questo profilo pota, generalmente ha più bluff che valore, generalmente. Cioè generalmente nel senso che se pensiamo che lui possa avere 400 combo river di cui 100 di valore, tra il suo punto di vista 300 sono bluff, ok? Quindi qua difendiamo IP, avanti il range, in posizione con una mano poco vulnerabile, sensato a risare turn, mi raccomando a noi interessa il TP. Cosa ho pensato in questa mano specifica? Chi se lo ricorda? Mi ricordo come se fosse successo ieri, ma forse l'ho giocata oggi, quindi non è il massimo della gioia. Comunque chiamami IP, avanti il range in posizione contro il giocatore Spiwi, pensando anche alla vortex, ragionando su cosa possiamo fare. Oppo gira 7 e 4, va bene. Rivenendo la mano, vogliamo risale turn? Si può fare, senz'altro. Mi raccomando le notte, pot bottom pair, mini turn con bottom pair e 4 quinti, pot river bottom pair, questa è una cosa che sicuramente vogliamo annotare. Comunque pot DBP, don't bet pot, e possiamo proprio mettere 4, 7 su 4, 6, 9. Così è davvero un'idea, la bottom pair con questo tipo di mani, poi fa un quarto turn e in 4 quinti colore, colore, e pot river bottom pair, possiamo semplicemente mettere BP. Se abbiamo questa nota, quando turn fa questa move, sicuramente reso, molto sereno, no? Se poi veramente, mini beta, io reso, mi mando alla vasca, mini beta raise, e abbiamo già nota che mini beta raise dei doppi set, possiamo anche foldare, non è facile. Non è che ci sta negando l'equity, ok? Ci sta dicendo che tipo di mani ha, e noi non abbiamo abbastanza equity da difendere. Ok, era chiarissimo, senz'altro. Allora vediamo cosa succede, cosa abbiamo in questo tavolo? Fermana, giocatore di profilo un po' nitti, sicuramente farà soldi su questi giocatori, senz'altro, ma va bene, non è che nitti è male, nitti è bene in realtà contro questi giocatori. Ponsi Ponsi, che era la pubblicità di Grette Vinci, no? Forse ricordo malissimo. Comunque il 50-20, basso fold, basso aggression, un profilo stationary, e Miccoli, che credo possa essere un altro giocatore di calcio, no? Forse lo sto clamorosamente inventando. Profilo long bomber, gioca tutto, non rilancia, non tribetta mai, non folda mai, folda pochissimo passflop, aggredisce a bombazza. Quindi lui chiama, ma non perché ha qualcosa in mano, perché ha qualcosa in testa, non dico neanche cosa può avere in testa, perché non si parla di cose sconvenienti, ma è chiaro che è un giocatore che chiamerà molto con l'intenzione di bleffare. Non è questione di che range ha, di cosa vuole, cioè di che tipo di mani trasforma specificatamente, riguardo anche a cosa noi bloccheremo. È proprio il fatto che lui chiama apposta con l'intenzione di bleffarci via, quindi può avere ogni cosa, non è più così importante pensare ai blockers. Comunque oppo a 3x2, qua possiamo optare per un call in posizione avanti il range, lasciando anche spazio a ponzi ponzi di chiamare spesso i P, e non è così male, perché nel suo range di tribet c'è tipo solo AK su ASK, AK con cui noi possiamo foldare serenamente quando è d'azione, a meno che non mini tribet e chiama anche l'altro, allora chiamiamo i P, con un sacco di potenziali soldi. Potenziali soldi esiste? Il VBB chiamato così? Non lo so. Possiamo chiamare avanti il range a posizione contro Spiwi, lasciando nel range di call di ponzi un sacco di mani deboli. Aggiungiamo anche che non è che correggiamo l'errore di ponzi, cioè se ponzi fosse un giocatore forte, allora sarebbe un problema chiamare, perché lui farebbe un sacco di equity, ne negherebbe a noi, potrebbe squizzare, eccetera. Oppure possiamo tribetare in isolation, va bene, cioè siamo in valore contro il nostro avversario. Notiamo che comunque Miccoli non apre molto mani, qui sta aprendo per due, quindi immagino un range piuttosto debole, generalmente, quindi mi vanno bene entrambe le strade. Qua chiamiamo i P su questa lettura, bassa apertura e giocatori in B-Blind come sopra descritto. Non mi preoccupa troppo Fermana in questo momento, perché ha uno squeeze più basso dell'attribetto, un profilo abbastanza nitti, se anche dovesse squizzare e dovesse chiamare Miccoli, noi faremo comunque soldi. Chiamando i P non è che ci negano l'equity, non siamo preoccupati. Comunque chiamano tutti. Chiamiamo bene, se so asso asso 10, noi abbiamo la nostra doppia con un buon kicker. Check, bet il nostro op, questo è un ottimo spot per chiamare i P avanti al range. Possiamo chiamare un sacco di ritardo, un sacco di river su questo giocatore. Chiaramente, attenzione, apre poco preflop, ha un 5 di apertura sul poche mani, ma il fatto che apre poco mi fa pensare che qui lui possa avere qualche asso debole, tipo asso 2, asso 3, asso 4 suited, qualche pair, 5, 5, 4, 4, 6, 6, 7, 7, mani così. Non escludo, posso avere anche dei mostri, tipo AK, non lo so, cioè non ho lettura sulle sue size d'apertura. Dico solo che se normalmente ha anche un'apertura con una size diversa, è probabile che abbia quel tipo di mani. Giochiamo i P, non abbiamo problemi. Ponsi qua, check resa solo se è l'asso, quindi non è che se check resa con sediamo, chiamiamo i P avanti al range. Tarn betta ancora e alza size, quindi per tenere in considerazione i due terzi, chiamiamo felici. River betta ancora mezzo, chiamiamo felici. Felici perché era quello che volevamo. La mano, forte ma non fortissima, avanti al range, posizione, che non perde troppa equity Tarn e River. Se pensiamo da questo flop, cos'è che ci fa veramente schifo al Tarn? Una carta che non vorremmo mai vedere. Cioè nessuna, nel senso non c'è una carta brutta. Esce l'asso se è un felice, esce il K se è un felice, esce il Q, solo che bene, abbiamo anche l'incastro di scala. Esce il jack, abbiamo anche l'incastro di scala, esce il 10, siamo felici, esce dal 9 in giù, siamo felici, esce i fiori, siamo molto felici. E siamo sempre felici, è una felicità pazzesca. Qui chiamiamo, Oppo gira 6-6, quindi un range medio debole, fra virgolette, ma overplayato. Sicuramente note che possiamo prendere, è inutile che continui a prendervi tutte le note, ormai l'avete capito, ma ci siamo creati, la situazione ottimale. IP avanti al range, con lettura anche del giocatore da BB, temendo sconti di equiti, o meglio, scongiurando sconti di equiti per via delle letture che abbiamo avuto. Una mano che gioca ottimamente, senza bisogno di risare per nessun motivo, overplayando contro l'overplayer, ok? Giocando, alzando la voce contro i sordi, no? Per poter voler fare strane metafore, vatte la pesca. Allora, tavolo particolare, abbiamo un potenziale reg di profilo overplayer, non lo sappiamo, abbiamo poche mani, magari è fortissimo e sono solo poche mani, un giocatore di profilo nitti, un giocatore di profilo nitti, e Zanetti, che credo sia un altro giocatore di calcio, cioè, vabbè, ma Zanetti forse è anche un cognome molto comune, che ha un 70-10, molto passivo, un profilo station, va bene. Tanto, fra l'altro, foldano tutti e LOL. Allora, apriamo per tre, veniamo chiamati, abbiamo poche mani, può essere anche un giocatore forte, questo non lo sappiamo, dubito se è necessariamente un fish, perché ha un nick fichissimo, no? Che non ha un nick calcistico. Allora, qui hitiamo la nostra second pair con una buon kicker, buon kicker perché è di quadri, non peraltro. Il board non è decisamente un board che ci cappa il range, cioè, qui abbiamo un sacco di roba che il nostro avversario non ha, noi possiamo avere doppie, scale, set, di qualsiasi cosa, il nostro avversario difficilmente ha doppie e set, perché ne avrebbe quasi sempre trimettate, AQ, AK, KQ, forse qualche giocatore si può averlo, Assas, AK, KQ, Q. Abbiamo vantaggio di range. Cioè non toglie che il profilo del nostro hop è abbastanza spigui over player, avendo una second pair con i sette di quadri, bettare, crea un piatto grande con una mano marginale contro la giocatore over player, avere i sette di quadri ci permette di cercare, difendere la prima, turn, miglioriamo equity, difendiamo la seconda, river, miglioriamo equity, difendiamo la terza. Oppo gira sotto, che ha senso come move, nel senso che bette la prima, bette la seconda, trasforma in bluff river, forse un po' eccessiva, forse, non ve lo so dire, ma la nostra scelta qui è posta quella di cercare questo tipo di mani, con side card a quadri. Se noi avessimo avuto un altro KX, come un K4 di picche, non sarebbe stata la stessa cosa, ma per forza era un'altra mano. L'importante è il tipo di giocate. Mi raccomando, l'idea che qui non abbiamo un range k, quindi non è necessariamente vero che stiamo tenendo una linea di full check, anzi, la bette può andare, ma attenzione che contro questo giocatore poi dobbiamo foldare molto molto spesso, quindi cerchiamo di avere nel check anche delle pair, delle coppie, delle mani con vodori di showdown, soprattutto se la side card è a quadri. Poiché Oppoli abbia deciso di trasformare in bluff, lo sotto il pair, può anche aver senso, magari ha senso, nel senso, non è proprio l'obiettivo di questa filmata ragionare su questi tipi di giocatori. Allora, questa mano penso sia un po' antica, a occhio ho visto i giocatori impegnati, ma tant'è, tra l'altro credo anche fosse sbagliata. Allora, apriamo 3 per contro un 50-10 con 70 di fold al flop, quindi il giocatore lose, hitter fold, ma over aggro quando aggredisce, alta, 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 alta bet versus mister, alta donk bet, eccetera. Non è che sia il top aprire queste mani contro gli short stack, questo Oppo ha veramente pochi bui, insomma, 7 euro hanno il 2025, saranno 30 bui, so contare quasi. Ecco, quindi non è che sia proprio un fan di questo genere, tipo di mani contro questi giocatori, ma il nostro Oppo non tributa mai pre, post flop la mano gioca piuttosto bene, hitta abbastanza spesso, mid pair, eccetera, che possono sgammare i bluff di questo giocatore, e possiamo impostare un buon gioco. Sarebbe da valutare qual è l'esatto range d'apertura. In questo momento non ve lo so dire, perché non l'ho fatto. Oppo colla, allora qui abbiamo second pair, kick mediano, neanche così male, ma abbiamo anche 3 quinti di scala, 3 quinti di colore, non è il nostro top, non è il nostro bottom, il nostro avversario ha un fold abbastanza alto, potremmo quindi pensare di bettare mani deboli, come, non so, un jack 10 che potremmo avere in questo spot, per fargli foldare dei Kx, dei Qx, e guadagnare comunque in fold equity, visto il giocatore, o, visto il tipo di giocatore, cercare per chiamare, visto il tipo di player, noi giochiamo, lui bett alfa, difendiamo, tar miglioriamo, lasciamo fare, bett qui a questo punto lo resiamo, per valore e protezione dell'equity, può avere veramente qualsiasi cosa, cioè al flop può bettare con qualsiasi cosa, visto il tipo di giocatore, ok? Ha una bet molto alta, possiamo immaginare veramente qualsiasi, nel senso che è un K2 di cuore, per dire K2, quindi nulla contro il quinti colore, più che buono dal suo punto di vista di bettare, contro il range di bett verso smith, 9-8 è una montagna sacra, ok? In questo caso, e bettare flop è un po' scomodo, anche se poi se esce l'8 diventa molto facile, ma mi raccomando, al turn non ci accogliamo, cioè al turn abbiamo migliorato equity, se non fosse uscita una carta che migliorasse, migliorasse la nostra equity, tipo un K sarebbe stato un po' più problematico, mi vedo comunque avanti il range dell'avversario, ma difficilmente posso c'è cresare turn, se turn casca un K di quadri, per esempio, quindi diventa scomodo, su alcuni turn dovremmo infatti foldare, c'è cresiamo, oppo c'è golla, ci gira il Q7 a fiore lì, e vince lui, ma va bene, mi raccomando pensiamo al tipo di range che ho, oppo betta, quindi in questo caso sono 3 quinti più 3 quinti, che poi ribetta turn, ma abbassando size, forse, lui fa mezzo qua, e poi fa mezzo di nuovo, non gli fa mezzo piuttosto standard, l'importante è l'argomentazione, il TP associato alla nostra giocata, che abbia sempre il solo senso, a mano a comandi, e allora, questo è un tavolo di nuovo un po' strano, profilo viola, sarà probabilmente un profilo spiwi, 6, no, ah sì, questa è la mano che ho segnato, adesso andiamo a vederlo assieme, allora, profilo semi lusagro, probabilmente un borrechi di livello, profilo semi lusagro, probabilmente un borrechi di livello, ha due fish di profilo, spiwi aggro, abbastanza in tilt, in questo momento, e altro giocatore, preflop, gioca tanto, rilancia parecchio, soprattutto il zap, e folda poco, per aggredire, no, un mezzo tra un long bomber e uno spiwi, comunque apriamo per tre, golla lui, manda la vasca, il nostro caro, simpatico avversario, e qui dobbiamo decidere, cosa fare, allora intanto, abbiamo aperto per tre, ma anche perché siamo in cinque, e veniamo dalla prima posizione, difficilmente voglio aprire un range, che apre per due, in questo spot, anche se c'è un BB, piuttosto fiscio, quindi il mio range sarà un po' più piccolo, dal normale, buona parte del mio range, sta difendendo contro questo giocatore, come fare a capire cosa fa soldi, qui, analizziamo un attimo prima, il giocatore, giova di profilo, profilo spiwi viola, ha una tribet bassa, questo è un po' problematico, perché vuol dire che, tante mani decenti, come 8, 8, 9, 9, 7, asso 10, magari, adesso asso 10 gioca bene contro asso Jack, ma è per valutare il suo range, non le tribet a pre, quindi quando noi mandiamo la vasca, lui può avere queste mani per chiamare, vero anche che comunque ha un VPAP molto alto, 70 circa, la parte che abbiamo appena detto è forse un 5, di 70 su 5, quindi, se no difende una volta su 14, grosso modo, non vogliamo fare i conti precisi, è anche impossibile, contro giocatori così vasti, comunque qui noi abbiamo bisogno del 42% di equity, per difendere e fare soldi, cioè fare break even, di questa dobbiamo anche pagare della rake, e abbiamo un altro giocatore attivo, quindi poniamo un 44% stando sul nostro avversario pagato la rake, in realtà è un po' meglio, cioè non c'è bisogno di abbassare così tanto, ma dobbiamo valutare come inserire perfettamente le mani, su questo prendo la seconda parte del foglio che abbiamo preparato prima, allora ho messo qua, il nostro avversario che manda la vasca va in tribetto lì, con questo range, 50% delle mani, l'ho anche salvato da qualche parte, quindi sarebbe il caso di aprirlo, invece che lo dico senza vederlo, vedete io apro anche i range degli avversari, sta quanto l'uso sono, a quanto pare, scendi scendi scendi, trotto miliardi di range, AKRFI, in realtà cosa ho fatto qua? No in realtà era tribet, non so scrivere, questo è probabilmente il range di all in, no era la mano di prima questo, questo è il 90, questo è il piccolo all in, cosa, un attimo, ah no no, questa è la mano di prima, non c'entra niente, allora il nostro op manda la vasca, ed è un giocatore che potrebbe mandare la vasca con tipo qualsiasi cosa, ora mettiamo caso per comodità nostra, che sia un 50%, poi vedrete perché metto 50%, noi qui abbiamo a Sujekov, in questo caso a Sujekov va al 61%, ma se noi vogliamo sapere, se questo fosse il suo range, cosa fa soldi, dobbiamo fare meglio del 44% di base, quindi andiamo a cliccare il tastino, che di solito non uso mai, e mettiamo mani che giochino al 44% o meglio, il range di mani che gioca al 44% o meglio, è questo, in teoria con queste mani addirittura, avrebbe senso chiamarlo lì, notate che noi, avrebbe senso aspettate un attimo, non abbiamo ancora considerato l'altro giocatore, poi lo consideriamo, notare che molte di queste mani, non sono nel nostro range di preflop race, perché queste mani, noi le stiamo rilanciando abbastanza di sicuro, non credo starei rilanciando queste, sono un po' in dubbio, se voglio rilanciare 2, 2, 3, 3 in questo tavolo, difficilmente sto rilanciando i miei assi più deboli, asso 9 direi di sì, e probabilmente non queste, quindi in realtà grosso modo il range sarebbe questo, più o meno, il range che stiamo difendendo va bene, e questo sarebbe se ci fosse un solo giocatore, ma qui abbiamo un altro giocatore, per arrotondare, allora vi ho messo, intanto, ma il terreno migliore è, tribet del nostro avversario, frequenza di avvenimenti, 50% folda il nostro avversario, l'altro avversario giova, folderà 90% del suo range di call preflop, e chiamerà il 10%, soppesando gli eventi, quindi, del 50%, del 100% delle volte, fiore e vaolin, noi ci troviamo che, se noi mandiamo la vasca, al 90% giochiamo, questo pot, quindi questa situazione, contro il suo range, con un differenziale di 25%, e il 10% delle volte, invece, contro il coli range del nostro avversario, ok? Quindi la gran cosa che sposta è questa, volendo fare un po' uno sconto, possiamo pensare che questo 10% sia uno sconto di equiti, non è vero che perdiamo ogni volta, che veniamo chiamati dall'avversario, ovviamente, ma possiamo pensare che sia richiesta, un 10% in più di equiti, quindi se vogliamo il 44% di partenza, più 10%, 10% di 44% è 4,4%, quindi 48,9%, 49%, ok? Noi possiamo pensare, dal nostro range di partenza, invece di impostare un range al 44%, come abbiamo fatto prima, andiamo a creare un range che abbia almeno il 49%, ok? Quindi mettiamo qua il 49%, comoditaggi, è chiaro che di nuovo, non so scrivere, dico 40%, mi sono bleffato, questo è il nostro range che fa soldi più che foldato, fra l'altro non abbiamo neanche messo quant'era la partecipazione, ma il calcolo delle variabili in questo caso, queste sono tutte mani che fanno soldi difese con quelle potozze, è chiaro che alcune non le abbiamo nel preflop raise, quindi possiamo togliere queste che non stiamo rilanciando, queste che non stiamo rilanciando, da qui non credo di stare rilanciando, queste, queste, eccolo qua, queste sono tutte mani che in questo spot fanno soldi, ma andando sopra la vasca, mi raccomando abbiamo arrotondato, abbiamo detto 10% delle volte del range, Giova ci chiama, dopo aver chiamato richiama ancora, e abbiamo dato per scontato di perdere l'investimento di 7, in realtà non perdiamo il 100% di 7, ma stiamo perdendo una percentuale di 16 contro il range, perderemo un po' di soldi contro Giova, perché ha il suo share di equity, questo discorso va bene con, a suo cappa? No, è in valore, fa un sacco di soldi, ha un equity a Muzzo, ha un sacco di equity, ci interessa col bottom range, ASO2, K10, Q10, ASO8, 4,4, perché allora in quel caso, visto che è il nostro bottom, lo sconto di equity su una, il nostro hop a 16 euro, quindi a 60 bui, circa 64 bui, e quindi in questo caso, il bottom range dovrebbe foldare, è chiaro che se il nostro avversario, avesse una tribet più alta, è probabile che sia più alto il fold, perché, se non ha, se non ha tribetato, e ha una tribet a 15, difficilmente a 8899, che avrebbe tribetato, è chiaro l'idea? È chiaro il concetto? Va bene, comunque spero di sì, perché tanto non vi ascolto, se anche state parlando, non vi sento, quindi magari scrivetelo, nelle note, scrivetelo nei commenti, andiamo alla vasca, non troppo, va bene, gira, jack e 3, lol, quindi forse il nostro range, era un po' troppo piccolo, ma a memoria, memoria ve lo dico, perché l'ho vista questa mano, prima di registrare il video, era un po' tentato, sciamalaiava, non mandava qualche vasca in più, perché probabilmente, le avevamo portate via due soldi, quindi se le è venute a riprendere, mi raccomando, la comprensione degli spot, mano di questo tipo, tipo, abbiamo perso, asso jack contro jack 3, perché è uscito il 3 al river, quindi è un colpo al 6%, non si ragiona così, le abbiamo messe preflop, e questo ci interessa, andiamo a capirci al volo, solo perché è importantissimo, ottimizzare l'intero TP contro i fish, se noi abbiamo asso jack off, e il nostro hop ha jack 3 off, quello che è, eccola qua, noi le mettiamo al 76,28%, la partecipazione al pot è questa, non so perché mi è venuta in mente, oh I love the mountain king, comunque la nostra partecipazione al pot è 42%, vinciamo al 76%, la mano ha un EVBB molto alta, super facile anche da calcolare, ma ve la risparmio, tanto sono due numeri, se noi abbiamo un EVBB così alta, non abbiamo varianza nel lungo periodo, cioè, chiaro che nel breve ogni tanto ci scoppietta, ma nel lungo periodo, il nostro atteso è talmente alto, che possiamo accettare colpi assurdi tutto il giorno, e diventare super felici e ricchi, poi diciamo, che bello, mi trasferisco in qualche paese esotico, e dice, no bro, sei in quarantena, col cappero che ti trasferisci in un paese esotico, fai la botta anche te, va bene, però mi raccomando, quindi, scherzarci sopra, è importante, perché è uno spigui, se noi tiltiamo contro lo spigui, perdiamo margine, riduciamo il nostro EVBB, entriamo in B-game, se soffrivamo di varianze in A-game, figuriamoci in B-game, è un delirio, è un disastro, mi raccomando, non ragioniamo sul river, ha uscito il river, che sfiga, no, è un olympia flop, ok, giocavamo 75-25, fine del nostro TP, fine, croce sopra, e come facevano nei cartellemati giapponesi, bomba atomica, anche se in realtà sembravano più contro, ma sto sparlando di solito, non ha importanza, e non dobbiamo tiltare per il 3, non c'entra niente, non è che è uscito il 3 al river, poteva uscire il flop, sono 5 carte che vengono girate, quando si è in olympia flop, vengono girate con un certo ordine, per creare un po' un effetto fico, al cinema, all'azione, quello che è, riescono tutte e 5, non è il 3 al river, non è lo scoppio, bene che ci abbia scoppiato, perché adesso abbiamo più tempo, per portare via tutti quei soldi a quel giocatore, di questo tavolo, noi giochiamo alla sua sinistra, giochiamo IP contro il giocatore DeepStack e Speewee, gli altri due reg sono dall'altra parte, hanno quindi svantaggio, per ottimizzare le linee di gioco contro questo giocatore, è molto probabile, che se noi prendiamo note su questo giocatore, e affiniamo alzando il nostro VBBB, e VBBB, quante B ha questo V, un sacco di VBBB, nella lunga faremo più soldi, se questo tizio perde i suoi 60, 70 EVBBB ogni 100 mani, è probabile che, exploitandolo, noi faremo 80, 90 o 100, non exploitandolo, o addirittura tiltando contro di lui, ridurremo il nostro valore atteso, e aumenteremo la varianza, riducendo il profitto, è chiaro, è compreso, va bene, dopo il scontato che sia così, mi raccomando, perché il nostro avversario, ha margine di mindset, nel senso che per lui, giocare con un mindset così a patata, è una gran cosa, e vi spiego anche perché, noi abbiamo un bankroll da gestire, abbiamo i nostri 100 stack del livello, il nostro capitale di investimento, il nostro spending, il ROI, l'edge che abbiamo al tavolo, la gestione del level up, del role, abbiamo un sacco di cose, legate al nostro mindset, al nostro role, al miglioramento della nostra skill, il nostro avversario, è molto scarso, quindi edge zero, non ha bankroll, perché carica 10 euro, per partire in serata, gli va solo che bene, non avere bankroll, e avere un pessimo mindset, perché se avesse un pessimo mindset, e un sacco di bankroll, finirebbe distrutto, e rovinato dal gioco, in realtà, quindi per lui, avere un mindset terribile, un bankroll ridicolo, è un punto positivo, è chiaro l'idea, non so che sembrano speculazioni, astro pazzesche, ma dobbiamo chiarire, che se per lui ha un margine, e io ho un cane, un gatto che abbaia, se per lui ha un margine, avere questa impostazione di gioco, noi non possiamo, prendere i suoi leak, non possiamo alzare la voce, contro i sordi, non possiamo picchiare il mio caro, canetto adorabile, che mi fa impazzire, quando abbaia, e spero la smetta, ma non ha importanza, mi raccomando, quindi non scadiamo, scusate un secondo, maura per favore, mi salvi, ok, la cara tesoretta maura, mi ha salvato dal canetto superfluo, è superfluo, ma non diteglielo, è chiaro il ragionamento, scusate le interruzioni, ragioniamo bene, non tintiamo, teniamo, cariciamo, prendiamo nota, ok, l'olimpreflop, jack3, possiamo prenderla come nota, non credo sia super utile, ma va bene, comunque, idpf, cosa aveva, 30bb, quello che è, mettiamo jack3 off, lol, se vogliamo, giusto per scaricare il mindset, ok, l'importante è ottimizzare, se vogliamo sapere esattamente, qual è il range che fa soldi in questa mano, lavoriamoci, mettiamo sui range, mettiamo giù una formula dell'equity, vediamo come ottimizzare, se noi apriamo e foldiamo una mano, come Q10 suiter, K10 suiter, non abbiamo fatto una gran cosa, cioè abbiamo preso una cantonata, abbiamo approfittato del motto di spirito, la rabbia contro il giocatore, per evitare una situazione di studio, che è molto proficua, da avere nelle proprie, tra le proprie skill, cioè sapere queste cose, esserne consapevole, vi farà anche tiltare un sacco meno, allora spot di nuovo diverso, che abbiamo, reg e reg, perché me li ricordo, il cicatiello, chissà chi è, è un 90-10, basso fold, alta bet, in aumento flop turn river, giocatore long bomber, il profilo spigui, e avete notato, è con un po' piena apertura, col, squizziamo, ok, 3,50, 5 per, va bene, col giocatore un po' corto, e un po' spigui, ora, ha senso in questo caso, metterlo all'indiretto, senz'altro, cioè, lui ha una, una step to pot, cioè, ha una pot size bet, ha circa la dimensione del pot, sicuramente la mano fa soldi, andando lì, ok, è una mano troppo forte, da cercare, per qualità, è una top pair, ha la side card a picche, quindi è chiaramente una mano, che non foldiamo mai su nessun turn, e in più, il nostro avversario è corto, non è che perdiamo soldi, cercando questo genere di mani, ma dobbiamo ragionare, in long term, qui mi va bene, nel nostro range di squeeze, cercare, per esempio, cosa possiamo, ribettare, ma non credo che avremo K10, in questo spot, Kjack, farebbe anche soldi, chiamata, ma potremmo anche volerla squizzare, 9, 9, col 9 a picche, credo, mi sia una mano, che preferisco cercare, per giocarmi i resti, contro sto tizio, e, c'è il tipo di range, che non perde troppa equiti, qui però, posso scegliere tra, metterlo all in, ceccare, o smolbettare, ok, in realtà, di cui, in questo spot, credo che, una size piccola, di bet, tipo 1,50 euro, 2 euro, quello che è, insomma, un quarto del pot, sia il meglio, per far spiguare, il nostro avversario, che ovviamente, chiamerà con qualche mano marginale, e poi lo possiamo mettere all in a turn, e comunque, reserà con tanta aria, se io lo metto all in, sicuramente faccio soldi, nel long term, ma non prendo, massimo valore, dal suo interno, dell'orange, quindi preferisco una size piccola, in questo caso, facciamo 2 euro, forse ci stanno un po' meno, oppo mandare la vasca, noi chiaramente, mettiamo per chiamare, lui qua, gira la top air, ci sta, cioè, più che legittimo, ci pesca il novel river, altra cosa che ci sta, è ultra legittima, non è certo una preoccupazione, possiamo prendere nota, è talmente corto, che forse non serve, prendere nota, sul fatto che, resi all in la top air, perché, giocatori così corti, non ci danno, molte informazioni, ultima mano, che era interessante, per altri motivi, di nuovo, reg reg, fish, di nome Sandukan, quindi, casernela, Malesia, forse Sandukan, forse, non lo ricordo, ma adesso, intanto devo prendere tempo, finché compaiono le sue stats, allora, è un giocatore 35-5, ok, a rotondo, ma difficilmente, la tribetta è più alta, le pro flop race, un 35-5, quindi, un giocatore, molto chiuso, molto nitti, una sorta di abc, molto passivo, folda abbastanza poco, in generale, ma, quando apre, ma, non apre mai, mi raccomando, ci metta sempre, ma bella forza, sempre le bombe, va bene, tipo di giocatore, lui, limpa, da qui, se il nostro hop avesse avuto, fino a, penso, 30 bui, ma sarebbe da vedere, a seconda del suo range di limpa, comunque, metterlo in diretto, avrebbe fatto soldi, forse meno, forse 25 bui, ma dipende, perché è un giocatore molto particolare, ma adesso, non è che ci interesse, ottimizzare, il nostro range di open gem, anzi, di iso gem, in questo caso, e isolare questa mano, però, non è optimal, una bet vs smith relativamente alta, per il tipo di giocatore, ma folda comunque abbastanza poco, e aggredisce un minimo, non è ultra passivo, il check mi fa soldi, isolare 7-7, senz'altro, va bene, e isolare mani deboli, non serve, perché folda poco, sicuramente sbilancieremo il valore, ceccare, può avere senso, isolare un po' meno, per il video del giocatore, ma fa soldi anche isolato, questa mano, mi raccomando, il tipi associato, comunque cecchiamo, esce il fanta board, delle meraviglie, allora, questo hop è un profilo, abbastanza passivo in generale, è vero che è un po' un misto, preflop è molto passivo, postflop è relativamente aggressivo, ma relativamente, su poche mani, su poche, su 10.000 mani, ma come faccio ad avere 10.000 mani, su un giocatore del genere, perché non è finito broken prima, non lo sappiamo, comunque questo è un ottimo spot, per doncare, perché temiamo, che il nostro avversario, checkerà molto spesso, su questo board, con tante mani, che in realtà, noi stiamo battendo, e sarebbe un problema, no, concedere equity qui, noi in questo caso, bettiamo e bettiamo pot, se noi qui avessimo 4.5, 4.2 e 5.2, sono tutte mani, che ci chiamano la big blind, quindi possiamo sicuramente averle, saremo sicuramente bett collando, non c'è nessun motivo, di resare qua, una doppia, perché il nostro oppo, è un 30.5, quindi nel range a, 6.6, 7.7, 8.8, 9.9, probabilmente anche 10.10, per via di quanto rilancia, può avere anche, vabbè, poche combo di asso 5, perché ovviamente le stiamo bloccherando, può chiaramente avere asso 3, che è un problema, nel senso che con asso 3, stiamo un po' succando, ma contro asso 3, comunque, non è che, cioè, che è il shoot up range, sono, non so neanche se rilancierebbe, tutti gli asso 3 suited, quindi non saprei dire, comunque può avere, delle combo di 6, 7 suited, senz'altro anche non, probabilmente, può avere tonte combo, è chiaro che, più spesso qua al punto, visto il profilo del giocatore, è il mini raise, dal suo punto di vista, è una mano abbastanza forte, e click raise, ora, col set raise, perché sono ancora, in un sacco di valore, contro 6, 6, più, contro 6, 7 suited, contro carte alte suited, che non ha risato pre, tipo asso 10, asso jack, asso 9, di fiori, che dal suo punto di vista, sono molto, molto forti, quindi qua, raise, ok, qui raise all in, perché, quando ho oppo, mini raise al recibet, non folda niente, ok, non c'è una size diversa, non folda niente, quindi maniamo la vasca, mi raccomando, se avessi avuto 5, 4, 5, 2, 4, 2, era completamente diversa, l'equity contro il suo range, quindi avrei chiamato solo, ho visto le ottime odds, per vedere anche se miglioriamo, turn o river, o se comunque, il turn e il river, non spostano troppo la nostra equity, possiamo andare a difendere collettura, mi raccomando, se avessi avuto 4, 5, non l'avremmo fatto, ok, mi raccomando, è portantissimo, anche perché, il turn usciva il 4, facevamo full, eravamo più sereni, quindi felicità, no, felicità a portare via, perché il river casca l'otto, ma GG, mi raccomando qui, anche qui, attribuzione di un range all'avversario, thinking process dell'oppo, cosa rappresenta quando apre per 2, perché mandiamo la vasca col set, ma non con le doppie, stiamo cercando big blind, ne abbiamo questo spot, e cosa abbiamo di progetto sul turn, quando difendiamo con una doppia, come a gestire qui, lo scoppio contro la mano specifica, come si gestisce, è molto facile, al flop, le stiamo mettendo, lui chiama al 46%, con una mano che ha tipo 2 out per vincere, o era 8 out di fiori, ok, che ha un equity molto bassa, quindi un EV pazzesco, un EV BB atteso, lo scoppio è più che legittimo, l'unica cosa che non deve capitare, è tiltare, entrare in big game, giocare peggio, dobbiamo giocare sempre meglio, prendiamo nota, MR CB 8 overpair, più call all in su questo board, perché vuol dire che lui non molla l'osso, ok, avendo questa informazione, comunque credo che non reserei mani come 4 a 5, su un piatto così piccolo, invece col set, visto che abbiamo anche 10 out, in caso per migliorare, nel caso oppo veramente, abbiamo il secondo riscala, oppure abbiamo due out, per succare i massimi, quando l'inchiulio è l'8, comunque va tutto bene, e la giocata al massimo delle V, avete visto, ci ho messo più di prima, sì, oh lol, è 50 minuti che sto registrando, bene, il tempo passa a caso, allora comunque abbiamo visto, un sacco di mani, principalmente contro Agri, abbiamo visto qualche giocatore passivo, abbiamo argomentato, sui perché delle move, sul pot building, sul tipo di range, checcato, bettato, cosa apriamo per chiamare, cosa apriamo per foldare, perché apriamo per 2, e perché apriamo per 4, perché cambiamo gli iso, che tipi di giocatori abbiamo dei blinds, una lettura delle dinamiche del tavolo, che renderanno il nostro gioco, super sereno, super felice, e faremo sempre un sacco di soldi, e renderemo anche sopra via, sempre, questo ve lo dico, solo perché io ho la scia sacra, che vorrei fosse un certo tipo di fumello, ma non c'è più niente in giro ragazzi, sto scherzando, non gira niente, però quello è vero, siete colezze, ecco, comunque abbiamo un'aura di potere, che ci circonda, ma grazie alla skill superiore, è il fatto che noi giochiamo per migliorare, non giochiamo per tiltare, per peggiorare il gioco, per metterla sull'emotivo, contro un giocatore emotivo, e capiamo la sua versione al rischio, perché metta, cosa ha in testa, cosa ha in mano, che livello di pensiero ha, ha un livello 1, pensa a cosa ha in mano lui, ha un livello 1 e mezzo, ci fa una mano specifica, tu hai SK, tu hai 8-8, è un livello più dinamico, è un livello 2, quindi dici, ah cavolo, in questo spot io rilancerò, perché guarda, lui starà chiamando un po' di più, perché era questa posizione, ha un livello dinamico, per cui sa adattarsi a quello che sta accadendo, ha un livello invece troppo alto, per cui lui pensa che noi pensiamo, che lui stia pensando, e poi ovviamente ci gira le paperelle, e noi siamo felici, perché le paperelle le abbiamo solo in vasca da bagno, l'importante è un po' di dinamica, comprensione, e mi raccomando, più comprendiamo questi spot, minor varianza incontreremo, e più profitto faremo, ok? Sembra una filastroca bellissima, la metterò in un libro per bambini, figlio, non aver paura del buio, ma attacco all'imposizione, ah che genitore sarei stato, comunque su questa sciocchezza ragazzi, io vi saluto, per il video di oggi è tutto, un saluto alla prossima, da l'Orchina, bye bye!